Se da un lato c'è la presentazione dei due nuovi elettrotreni di ferrotranviaria questa mattina a Bitonto, dall'altro c'è una popolazione di pendolari che continua a chiedere interventi per diminuire i disagi che quotidianamente si registrano sulla tratta. Le difficoltà maggiori sono quelle che vivono i pendolari di Barletta-Andrea Corato. Barletta purtroppo, come sapete, è la linea interrotta per i lavori di interramento della ferrovia e per i lavori di raddoppio della Andrea Nord Barletta Centrale. Quello purtroppo è un disagio che durerà almeno fino al 2026. Per quel che riguarda il resto, penso che sappiate che ieri abbiamo cambiato orario, ieri l'orario ha dimostrato di essere abbastanza robusto, non abbiamo avuto grossi problemi. Abbiamo un problema purtroppo strutturale sul quale stiamo cercando di fare qualche cosa, ma ci vorrà del tempo, che è quello dei passaggi a livelli. Se per il raddoppio della tratta Andrea Barletta dunque bisognerà attendere almeno il 2026, proseguono invece i lavori di interramento nell'abitato di Andrea, che al momento hanno come scadenza ufficiale fine giugno 2024, anche se da più parti si preannuncia la possibilità di una richiesta di ulteriore proroga che permetta di terminare tutte le opere a fine anno 2024. Ma il problema principale per le continue perturbazioni sulla rete per ferro tramviaria possono essere addebitati soprattutto ai passaggi a livello ancora 19 sulla tratta, che fino a qualche anno fa ne contava addirittura 78. Le nuove tecnologie di controllo del traffico comportano che i passaggi a livelli restino chiusi molto più di quanto erano chiusi prima e questo purtroppo sta inducendo gli utenti stradali o a buttare giù le barriere, il che ferma automaticamente il treno, che poi deve attendere l'arrivo delle squadre che ripristino la circolazione, o si infilano fra le barriere nelle piazzone di ricovero e questo comporta che i sistemi di telecamere che controllano la presenza di ingombri fermano i treni e bisogna restare in attesa che arrivi la squadra per far uscire le macchine. Noi stiamo lavorando con la regione per eliminare più passaggi a livelli possibili, al momento ce ne abbiamo ancora 19 rispetto ai 78 che avevamo prima, di questi 4-5 sono estremamente critici e ci stiamo lavorando con nuove tecnologie per cercare di ridurre al massimo il disagio. Da ieri, come ha ribadito l'ingegner Nitti, sono in vigore anche i nuovi orari che puntano a snellire alcuni viaggi. L'impatto per i pendolari non è stato però dei migliori, anche se da ferro tramviaria restano particolarmente fiduciosi che si sia intrapresa la strada giusta.